Esercitare liberamente il proprio ingegno. Ecco la felicità. Queste le parole di Aristotele che ci suggeriscono i meravigliosi rivestimenti luminosi in marmo degli esterni dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Oggi ci arricchisce di tre nuovi edifici trapezoidali che ricuciano la separazione fisica tra facoltà, policlinico e le residenze universitarie. Per rimarmi è stato scelto l'adesivo cementizio MAPEI ad elevato punto di bianco.